Con l'autrice e attrice Iris Basilicata per presentare il suo spettacolo Candy, Memorie di una Lavatrice, schifosamente tratto da storie vere e mai lavate. A Roma, Teatro Lo Spazio, dal 3 al 5 maggio 2022, ben trovata. Grazie, grazie, buongiorno. Che cos'è questo spettacolo? Questo è un monologo al quale io tengo moltissimo, che ho scritto nel 2018 e parte da un'inchiesta del 2014 svolta dal settimanale d'Espresso su alcune situazioni di caporalato molto importanti che accadono nel Ragusano. Io ho letto l'inchiesta, mi aveva molto colpito e mi piaceva l'idea di far parlare però durante il monologo un qualcosa di inanimato. Quindi è tutto visto dal punto di vista di una lavatrice che si trova in questo luogo e quindi che racconta quello che accade. Quindi le parti sono invertite, l'oggetto è protagonista e c'è questa lavatrice Candy che parla di una sua grande amica che è Elena, questa rumena venuta dalla Romania per lavorare nelle serre del Ragusano e racconta la sua vita. E anche quello che succede a lei, alla lavatrice, è un monologo dolce amaro e io sono molto felice di poterlo portare in scena nella sua versione finalmente completa perché abbiamo debuttato all'inizio come uno studio e ora invece siamo al completo. Com'è stata la fincilla che ti ha portato all'idea di realizzarne uno spettacolo? Io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, sono un amico di Roma, ho studiato drammaturgia lì e avevo scritto un breve raccontino su una lavatrice che si trova all'interno di un appartamento e vede quello che accade. E quindi poi mi è venuta da lì l'illuminazione dopo aver letto l'inchiesta dove essermi informata tanto su tanti articoli di giornale, visto molti video su questa orribile vicenda delle campagne del Ragusano e mi è venuta in mente che potevo fondere le due cose. E quindi ho fatto incontrare un oggetto inanimato che parla con le avventure, le visavventure anzi di una lumena schiavizzata nei campi a Ragusa. In parte ce l'hai già detto, però come hai immaginato l'ha messa in scena? È tutto molto sopra le lighe, è tutto molto favolistico, è questo personaggio che parla, che vive proprio come se fosse uno di noi e attraverso il sorriso racconta delle vicende molto amare. È una lavatrice che sta studiando per diventare la miglior lavatrice d'Italia, quindi vuole vincere su tutti i costi questa fascia e racconta della sua amica Elena. La chiama in maniera molto sorridente, però povera, disgraziata e racconta le vicende orribili che accadono, però sempre con un filo ironico. Perché volevo che lo spettacolo fosse appunto molto ironico, su questa vicenda purtroppo molto devastante e brutta. Rispetto alla cronaca, quali sono gli elementi che hai voluto sottolineare? Sicuramente rispetto alla cronaca, la storia in generale, perché questa storia non sa nessuno, cioè c'è stata questa inchiesta nel 2014, poi ripresa nel 2017 e le vicende erano ancora nascoste. Mi sono documentata moltissimo sulle condizioni di vita di queste braccianti rumene e anche sui rapporti e sui codici, sui linguaggi di codice che ci sono tra le rumene e i padroni. Perché i padroni le schiavizzano sia a livello lavorativo che sessuale e ci sono proprio dei codici con i quali loro fanno capire che vogliono schiavizzare quella donna dal punto di vista sessuale. E quindi ci sono dei meccanismi che loro utilizzano per dire ok, io vorrei che tu diventassi anche la mia schiava sessuale. E le rumene poi devono rispondere a queste domande tramite una partitura assurda, tramite delle colazioni che loro fanno. E quindi ho voluto tenere questo piccolo codice che loro ti danno e poi tutta la vita che svolgono, lavorativa, sfruttamento, le condizioni in cui vivono, che sono condizioni assurde, insomma. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Lo spettacolo, Candy, Memorie di una lavatrice, schifosamente tratto da storie vere e mai lavate, dal 3 al 5 maggio al Teatro Lo Spazio, in Via Locri, 42, metro San Giovanni, a Roma. Io sono Iris Basilicata, sarò lì con il mio monologo. C'è un sito internet del Teatro Lo Spazio? Sì, www.teatrolospazio.it e poi i biglietti si possono trovare su Viva Ticket. Lo spettacolo Candy, Memorie di una lavatrice, schifosamente tratto da storie vere e mai lavate, a Roma, Teatro Lo Spazio, dal 3 al 5 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento all'autrice e attrice Iris Basilicata. A presto! Grazie, grazie, a presto!